benvenuti a cittagoradio notiziario del consiglio comunale di torino buongiorno e benvenuti nell'edizione di oggi un giardino intitolato a luigi chignoli prendono forma i nuovi murazzi arcate moi università e politecnico le vogliono per creare un centro di ricerca in ingegneria biomedica divorzio e separazioni brevi una legge che non funziona la scomparsa di dante notari stefano taino e il suo popolare bobo in mostra alla gam si è svolta nella mattinata del 20 febbraio la cerimonia di intitolazione a luigi chignoli del giardino compreso tra le vie marsiglie elexandri e carriera a torino nella circoscrizione 3 antifascista sindacalista consiglier assessore comunale cittadino onorario di torino chignoli nato a piacenza e morto nel 1978 a torino come militante socialista durante il regime fascista chignoli fu incarcerato e accusato nel famigerato processo di torino del 1944 fu assolto per insufficienza di prove ma 8 di 15 imputati furono fucilati nell'aprile di quell'anno al poligono del martinetto per 15 anni dal 49 al 64 chignoli fu assessore nella nostra città murazzi sono state varate le linee guida per la concessione delle arcate lungo il po la giunta ha infatti dato il via al provvedimento che prevede una concessione di sei anni rinnovabili di altre sei delle arcate destinate ad ospitare attività commerciali la città con la collaborazione di iren realizzerà impianti tecnologici e di servizio all'interno di una o più arcate per un importo di circa 650 mila euro verrà inoltre realizzato un nuovo impianto di illuminazione costo 450 mila euro con l'installazione di lampioni che si attiveranno autonomamente al passaggio dei pedoni tutta l'area godrà di copertura wifi gratuita la realizzazione delle opere necessarie a ristrutturare i locali sarà invece a carico dei concessionari l'amministrazione comunale intende a giudicare le arcate entro la primavera del 2015 ancora arcate questa volta quelle del moi con un incontro in comune il 19 febbraio scorso a cui hanno partecipato i vice rettori dell'università Ezio Ghigo e del politecnico Romano Porchiellini prende forma e ufficialità l'interesse dei due atenei torinesi ad acquisire gratuitamente con una concessione trentennale le arcate del moi negli ex mercati generali lo scopo è realizzarvi un grande centro di ricerca dove opererebbero specialisti di biomedicina e bioingegneria divorzio e separazioni brevi di fronte alla commissione pari opportunità assunta defente membro del consiglio dell'ordine degli avvocati ha illustrato le criticità della legge 162 promulgato lo scorso dicembre che consente di rivolgersi direttamente all'ufficiale di stato civile del comune senza passare dal tribunale per ottenere il divorzio o la separazione legale le coppie senza figli e senza necessità di accordi patrimoniali potranno farlo senza rivolgersi ad avvocati esponendo ha detto defente il soggetto debole al rischio di danneggiarsi rinunciando inconsapevolmente ai propri diritti quelle invece con figli minori o disabili o non autonomi economicamente dovranno pattuire accordi rivolgendosi a due diversi avvocati gli accordi dovranno però essere approvati dalla procura della repubblica e in certi casi anche dal tribunale in questo caso ha detto l'avvocato si vanifica lo scopo della legge che era di de giurisdizionalizzare il procedimento e sollevare i tribunali dagli arretrati di cause di separazione e divorzio gli interessati rischiano in questi casi di spendere più denaro e più tempo di prima inoltre in europa queste separazioni e questi divorzi non verranno riconosciuti perché non sono stati ottenuti attraverso una formale sentenza del tribunale dante notari stefano uno dei protagonisti della vita politica e pubblica cittadina è morto il 18 febbraio scorso all'età di 87 anni aveva militato nella sinistra democristiana ed aveva fatto parte della giunta del sindaco porcellana era stato assessore e consigliere comunale a torino fino al 1980 dalla sua fondazione nel 2001 e fino al 2013 era stato presidente dell'associazione degli ex consiglieri comunali nel 1977 era scampato ad un agguato tesogli dalle brigate rosse dal 20 febbraio al 6 aprile lo spazio wunderkammer della galleria di arte moderna di torino accoglie la mostra del fumettista italiano sergio steino realizzata all'interno della più ampia manifestazione torino incontra berlino la mostra dedicata al viaggio che steino compina la capitale tedesca nel 1981 nelle strisce il popolare bobo alter ego dell'autore esplora una berlino attraversata dal muro e dalle sue mille contraddizioni la vivacità culturale ed illusso edonista della zona occidentale e il grigiore la povertà della zona sottoposta al regime comunista della ddr termina qui cittagoradio vi ringraziamo per l'ascolto hanno collaborato a questa edizione silvio lavalle massimiliano quirico alessandro poma roberto tartara direttore remo guerra grazie a tutti grazie a tutti